Salve amici del Centro Meteo Italiano. Weekend che inizia con tempo asciutto, ma non per tutti. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 25 marzo. Tempo instabile al mattino al nord-est, con piogge e acquazioni localmente anche intensi. Neve sulle Alpi fin verso i 1200-1500 metri, più asciutto con maggiori aperture al centro-sud. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su gran parte della penisola con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge sparsi ancora su Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata e nottata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite. Temperature minime in calo al nord e in aumento al centro-sud, massime e lieve calo sui settori adriatici e in rialzo altrove. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano.